ciao ragazze finalmente è arrivato il giorno dell'estrazione del giveaway natalizio insieme appunto andiamo a fare questa piccola diretta su questo video per mostrarvi appunto come faccio per andare ad estrarre il vincitore o la vincitrice di questo giveaway e dopo mi raccomando chi vince aspetto che non solo mi commenti giù in questo video appunto e si fa sentire ma mi invia una email che è trovata appunto giù vi faccio vedere in ogni mio video io giù inserisco l'email con l'indirizzo appunto per mandarvi nome con nome indirizzo per mandarvi il tutto a caso ovviamente ragazzi dopo le feste perché attualmente sono incasinata al massimo al massimo scusatevi e quindi non ho la possibilità di mandarvi appunto il tutto in pochi giorni dopo le feste ovviamente avrete il regalino a casa vi ringrazio a tutti per aver partecipato a tutti siete stati tanti siamo cresciuti tanto e sono veramente tanto 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 contenta ovviamente già questo in due mesi che ho il canale aperto il secondo giveaway quindi vuol dire che più soddisfazioni avrò dal mio canale e più giveaway ovviamente andrò a fare come al solito nel mio video sentite i miei figli quindi ormai ci siete abituati siamo una grande famiglia e sono veramente contenta così allora iniziamo subito io ho aperto la pagina con youtube random comment picker e ho aperto appunto anche la pagina per quanto riguarda il giveaway natalizio io adesso vado a copiare il mio link del video copia dopo che appunto l'ho copiato vado nuovamente su youtube random e lo vado a copiare qua registra più da vicino Mirko ok come vedete adesso caricherà tutti i commenti sono 133 commenti appena io peggiorò qua random pick winner appunto darà il nome del vincitore 3 2 1 in bocca al lupo a tutte e a tutti via buona fortuna dalila benvenuto sei dolcissima soprattutto tua figlia dalila hai vinto sono contenta per te adesso andiamo a controllare se sei appunto registrata dalila è il 47esimo commento vediamo appunto se sono presente nel suo canale allora iscrizioni eccomi sono qua ok eccomi qua perfetto andiamo a vedere se nei video piaciuti c'è il video del giveaway eccoci qua siamo qua dalila hai vinto sono contenta per te quindi aspetto il tuo messaggio sotto questo video e poi ovviamente mandami un'email con tutti i tuoi dati dopo le feste avrai appunto il tutto a casa ti ringrazio ringrazio tutti ovviamente può vincere solo una persona però non vi preoccupate ovviamente ce ne saranno sempre di altre vi mando un bacione grande 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 a tutti grazie nuovamente di aver partecipato e alla prossima ciao ciao